La problematica dei cinghiali sta tannagliando il nostro territorio. Mi trovo a Ballo della Lucania. Sto per incontrare il presidente della Coda Conscilento, l'avvocato Bartolomeo Lanzara. Per quanto riguarda i cinghiali è un problema tavico che purtroppo sta creando gravi problemi sul territorio del parco. Non c'è nessun comune che è immune. Le associazioni locali e le associazioni di categoria degli agricoltori più volte hanno segnalato questo tipo di problema. Il Codacons aveva già fatto una lettera al presidente del parco, Tommaso Pellegrino, e colgo l'occasione per fare i migliori auguri da parte mia per quanto riguarda la nuova carica di consiglieri regionali e speriamo che possa intervenire anche alla regione per aiutare il territorio. Il problema dei cinghiali è un problema, come dicevo, atavico, però ormai è diventato molto serio perché le misure adottate dal parco non sono state sufficienti. Per cui c'è una proliferazione dei cinghiali che è enorme e stanno creando danni sia all'agricoltura e stanno creando anche una serie di incidenti alle persone, alle cose che sono molto gravi. C'è il problema degli indennizi. Gli indennizi non sono adeguati, per cui è necessario rivedere il problema degli indennizi e aumentarli, se è possibile, velocizzare quelle che sono le pratiche che il parco ha predisposto. Altrimenti qual è il rischio? Che per avere dei risarcimento adeguati le persone, i cittadini, le associazioni, i colori, gli imprenditori devono rivolgersi alla giustizia, per cui i tempi si allungano, i problemi sono diversi e c'è anche sborso di denaro, quindi un danno economico considerevole. Per cui io invito il presidente del parco a convocare immediatamente un tavolo, chiaramente tenendo conto delle misure Covid, con le associazioni di categoria per trovare una soluzione veloce ed adeguata. Grazie a tutti.